Dura presa di posizione del sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, in qualità di presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e nei confronti dell'assessore all'ambiente donante la Spano, che ieri ha accusato i comuni di non essere sufficientemente organizzati nel fronteggiare le emergenze. Più che il classico degli scaricabarile, sostiene Soddu, siamo davanti alla mistificazione pura, intrisa peraltro di propaganda e della peggiore. La verità è sotto gli occhi di tutti, scrive il sindaco Soddu. Da una parte le nostre comunità, che con i mezzi disponibili fronteggiano un evento straordinario grazie al prezioso contributo di volontari e cittadini. Dall'altro la regione che si muove con lentezza annunciando interventi per larga parte disattesi. Mai come in questa occasione l'ente superiore prende nel vero senso della parola le sembianze di quel pachiderma inutile e costoso, soprattutto lontano dai bisogni delle comunità, continua il presidente del Cal. Mentre a Cagliari si facevano annunci che davano per risolte situazioni estremamente difficili e complesse, a Urzulei, a Fone e in altri paesi all'interno, le amministrazioni provvedevano alla sicurezza e al conforto delle tante persone rimaste isolate e prive dei servizi essenziali. Mentre dall'assessorato piovono accuse di chissà quali negligenze, continua il sindaco Soddu. A Desulo sottolineano il paradosso che nel passato ha permesso di far arrivare in paese una task force per abbattere dei maiali e consolersi a cosa questa che manca quando bisogna salvare vite umane e attività produttive. Mentre nel capoluogo regionale si parla tanto e si fa poco, in Barbagio i cittadini spallano la neve con mezzi propri e gli imprenditori offrono sostegno e solidarietà. L'assessore Spano ha voluto ricordarci, conclude il presidente del Cal, che i comuni sono carenti di piani di protezione civile. Volevo informare l'assessore, qualora non ne fosse al corrente, che nei comuni non sono i piani a mancare, ma i mezzi alle risorse. Anziché essere indignati per il grido d'aiuto che arriva da zone dove è difficile persino partorire, siano felici per il raggiungimento del loro obiettivo primario, la desertificazione della nostra isola. Come cala la nostra visione politica è opposta, puntiamo ad una diversa distribuzione delle risorse e delle strutture, restituendo dignità ai piccoli centri. Grazie. Grazie.